Vinci! Puoi vedere? Trasformo queste patate in patatine! Come fai? Guarda qui! Per prima cosa ci serve il ketchup! Oh, ok! Oh, tantissimo ketchup! Ok! E adesso mettiamo una patata! Lasciate un mi piace se siete curiosi! Lasciato! Ok! E adesso è arrivato il momento! È arrivato il momento! Adesso giriamo! Wow! Da una patata nascono le patatine! Anto, come hai fatto? Da una patata patatine! Iscrivetevi per altri trucchi! Dicono che se metti tantissimi colori su un dischetto di cotone succede questo! Wow! Ci voglio provare! Lasciate un mi piace se dobbiamo provarci! Ok, hai lasciato! Ok! Abbiamo preso un dischetto di cotone! Wow! E adesso dobbiamo prendere tantissimi colori e fare tantissimi puntini! Abbiamo iniziato con tantissimi colori! viola, arancione, oh che bello! Aggiungiamo tanti colori! Verde! Ci siamo quasi preparatevi! Secondo voi funziona? È per finire giallo! E adesso dobbiamo immergere questo nell'acqua! Iscrivetevi per immergerlo nell'acqua! Wow! Grazie! 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 Grazie!